Buongiorno a tutti voi da Pianeta Animalista e da Laura Fazio. Oggi sono con una persona veramente eccellente, un attore, Massimo Verti Müller. Grazie per l'eccellente, poi mi dici quanto devo. Sei stato un bravo attore, sei un personaggio conosciuto, molto conosciuto al pubblico italiano e mondiale. Senti Massimo, io vorrei farti una domanda a proposito della mia web, perché siamo qui per parlare di animali. Tu sei molto vicino agli animali, questa tua vocazione nei loro confronti, da che cosa ti è stata dettata? Cosa è che ti ha spinto a questo? Prima di tutto io sono cresciuto da bambino con i cani, perché mia madre amava i cani, e poi c'è stato un periodo di allontanamento da loro dovuto al dolore di perderli. Capirai, adesso ce n'ho due. E questi due che ho adesso, cominciando da Rocco, che è stato il primo, mi hanno insegnato tanto. Una di queste cose è proprio questa che di risposta alla tua domanda. Perché io negli occhi di Rocco ho visto una sacralità della vita, la scintilla del pensiero originario della vita, come deve essere nata e come deve rimanere pura, che noi invece perdiamo dalla fanciullezza in poi. Noi il nostro occhio si sporca dalla fanciullezza in poi. Noi siamo stati puri, limpidi solamente nella fanciullezza. Negli occhi di Rocco io ho visto questa vita che ancora è pura e ho risentito questa brace che avevo sotto, molto viva. Per cui questa cosa non solo mi ha portato a questa consapevolezza, ci ha portato anche a una serie di considerazioni scientifiche. Per cui diciamo subito che il mercato della carne, lugubre e feroce, è anche il maggiore agente inquinante del pianeta. E questo lo dico sempre io. Se non lo capiremo noi da soli, piano piano ce lo farà capire il clima e la scienza. Quindi secondo te si diventerà quasi tutti un domani vegani e vegetariani, vero? Obbligatoriamente. C'è uno stregone nel passato che si è chiamato Leonardo da Vinci che ha detto io non mangio nulla che abbia un cuore, che ha previsto un mondo così. Speriamo che abbia ragione come con gli elicotteri e i treni. E non era certo uno qualunque. No, non era certo uno qualunque. Allora, quello che voglio dire è che mi ha avvicinato a questo argomento poi questo discorso etico ed empatico. Per cui, siccome sono certo che un mondo che non dovrà più ammazzare per alimentarsi sarà senz'altro più civile di uno che continuerà a farlo, siccome sono certo che è più bello è più giusto vedere un animale che corre, gioca, vola, libero nel suo abito, vive nel suo abito libero che non scritto su menù, e poi alla fine questa consapevolezza che ripeto io vorrei solo condividere civilmente e senza fanatismi. Però con questa consapevolezza io naturalmente nel piatto vedo una vittima e non vedo una pietanza, non mangio più esseri viventi. E' come vedere i nostri cani e i nostri gatti nel piatto, la stessa cosa. Certo, poi servirebbe anche se vogliamo scomodare grandi pensatori, perché finché è Massimo Bertumura che non è nessuno, ma quando, non solo Margherita che diceva non vedo differenze fra una violenza fatta su un essere umano e quella inferta su un animale, siccome Gandhi diceva che è bellissimo, l'aggrado di civiltà di un popolo è dato da come questo tratta gli animali, potremmo andare avanti all'infinito, fino a San Francesco, se permetti. E Gesù Cristo? Cosa che viene un po'... Gesù Cristo lo portava vivo, l'agnellino sulle spalle, non lo dava. Ma non si dice mai di Gesù Cristo che era vegetariano? Non era vegetariano, ma San Francesco li ha addirittura considerati fratelli, queste nostre creature. E andando un po' più sull'odierno, il professor Settis ha ipotizzato un club della vita su questa terra, i cui soci saremmo noi, l'aria, l'acqua, il bosco e gli animali, i nostri fratelli. Se si fa del male a uno di questi soci, automaticamente si fa del male a tutti gli altri. In altre parole, se tu non rispetti la natura o gli animali, non rispetti te stesso. Ecco, tutto questo io lo devo a Rocco. Dice perché? Perché è un animale, perché io negli occhi degli animali vedo che questa purezza non li abbandona mai fino alla morte. Ti ha fatto pensare Rocco? No, è Rocco mi ha fatto pensare. Tu considera, per esempio, un aneddotino. Io non posso vedere gli insetti. E vabbè, quello non c'è niente da fare. Tra l'altro la cavalletta è anche nociva, quindi. Ma proprio mi fanno... alcuni insetti mi fanno... L'altra volta stavo su un campo di tennis e ho visto uno scarabbeo sotto sopra che chiedeva aiuto. Io ho fermato tutto, ho preso sto scarabbeo con le mani e l'ho portato fuori del campo e l'ho girato. Non l'avrei mai fatto prima di Rocco. Che ti voglio dire con questo? Sei stupendo, hai fatto un'azione vera, formidabile. Stupendo, sei stupendo, meriti un bacio tu. Allora, praticamente, questa cosa qua, che vuol dire? Rocco mi ha riportata un'attenzione. L'attenzione per la sacralità della vita. Gli animali mi ci portano. Anche il mare, anche il verde, anche la natura. Perché? Perché noi passiamo inermi, disattenti, in mezzo a tante tragedie. E oggi viviamo un relativismo, no? Che ci fa essere distratti davanti a tutto. Ci sono stato anch'io per tanto tempo distratto. Io avevo visto ben... ero capitato con il mio lavoro, su due mattatoi. Quelle scene lì, agnellini, appesi, che aspettano la morte, con le mamme sotto, che piangono. Le persone che li mangiano e si ritrovano nel piatto, non si rendono conto del terrore che attraversano questi animali prima di finire nel piatto? Non si rendono conto? E appunto sono disattenti rispetto al fatto che siano senzienti. Gli alibi che si creano certe volte per mangiarsi indisturbati la fettina, il pezzetto di carne, sono... E i moscerini sul parabrezza? Questa è la più bella di tutte. Perché? Come se io prendessi la mira col moscerino per strada. Come se fosse colpa mia che vanno a finire. Oppure la carota. La carota non ha lo stesso sistema nervoso. Insomma, questi sono esseri viventi e senzienti. Quindi alla fine tutto questo discorso di disattenzione... Dobbiamo lottare noi animalisti affinché cambi quel famoso articolo del codice civile che io dico sempre è incivile il codice. Che li considera cose mobili. Questo bisogna cambiare. Questo per esempio bisogna fare qualcosa. Per esempio il ministro Costa è un ministro per bene, che a me piace. È un animalista convinto, era una guardia forestale, era un ufficiale della guardia forestale. Quindi questo tema istituzionalmente ce l'ha a cuore. E mi sembra una persona... Però devono essere decisi tutti in coro, tutti partiti. Non è che uno basta per... Anche la Brambilla si è prodigata tante volte. Però secondo me, secondo la mia... Io non sono un politico, però devono essere tutti in coro d'accordo affinché questo abominio, io lo chiamo così, finisca. Però la politica è sempre uno strumento, per cui tu non puoi fare niente senza la politica. Ma io tutta questa volontà non la vedo. Per esempio prendi questa lotta contro... Per fare una sperimentazione almeno alternativa a quella sugli animali. Io sono stato, io personalmente, con un gruppo di animalisti al Ministero della Salute... Per i macachi, dici tu? Eh, ci sono stata anch'io diverse volte. Ecco, e ho avuto la precisa sensazione che è stata una presa in giro. Perché c'è stata una commissione che ha ascoltato, ha parlato di tavoli di lavoro, poi non solo non è successo niente, ma con due o tre rispostine cavillose, tipo se ci date le prove del contrario, le prove stanno scritte dove volete, che è una ricerca sulla cellula umana, che è una riproduzione di un organo... Ma le aveva anche date il famoso Veronesi le prove, tanti anni fa, ne parlava da secoli, che non serviva a sperimentare su animali. Si ostinano per il maledetto denaro, per avere il denaro pubblico. Che ne affare, non so quanto ha stanziato l'Europa per la ricerca sugli animali. Allora, se tutto questo è vero, come il mercato della carne è una lobby, come la caccia è un'altra lobby... Bravo, ti volevo fare una domanda sulla caccia. Cosa pensi dei cacciatori? E soprattutto di chi li autorizza? E che penso io? Cioè, allora, prendiamo uno che lo fa, lo si convoca, un momento gli si offre anche un caffè e gli dici, senti, come lo consideri tu uno che è nascosto dietro una fratta accuratamente, con un fucile che quindi per un uccelletto è in cannone, spara a una creatura che vola e ammazza con un cannone, cioè non gli hai dato manco la possibilità di reagire. Va a sfida all'urso con le mani nude, se vuoi andare a caccia. Oppure una tigre o un leone? Una tigre o un lupo? Vai, vai con le mani nude. Però se... ecco, a mani nude, bravo. Capito? Allora, come lo considera, mi perdoni? E se quello mi risponde, un'arte antica, così come quello che fa la corrida mi risponde, è un rito. Io dico che non esiste al mondo questa risposta. Addirittura lo chiamano sport questi pazzi. Appunto dico, cioè non può essere mai al mondo la risposta a quella lì, perché rimane un'attività, come tutte le attività contro esseri più fragili, da proteggere, indifesi, che andrebbero invece protetti appunto e curati, è come tutte quelle attività, come contro un bambino. Sono attività tra le più vigliacche. Dopodiché fate voi, nel senso che sta a voi la scelta, sta a voi la consapevolezza, sta a voi capire questo fatto semplice, che un essere vivente e senziente merita la nostra empatia. Bravo Massimo. Quindi con questo concludo dicendo che se veramente riflettiamo su tante cose, su tante piccole cose, che fanno grandi cose, riflettendo su... è come se ognuno di noi facesse la propria parte, aiutando un gattino, aiutando un cane abbandonato, aiutando un uccellino, portandolo alla lipo, perché magari si è rotto l'ala, come io ho fatto tante volte, ho portato un sacco di merli, piccioni, gabbiani alla lipo a far curare, perché magari, non so, si trovavano in situazioni di disagio, non potevano più volare, li ho portati a far curare. Se tutti abbiamo un ruolo in questo e facciamo la nostra parte, il mondo potrà migliorare e anche tra noi ci sarà più pace. Sei d'accordo? Sì, sì, si può fare da soli nel proprio centimetro quadrato e non solo sul tema dell'animalismo o per esempio sul clima, ma su tanti temi dell'etica. O si può fare in gruppo, si può fare dandosi da fare. Ecco, a me piace usare per esempio persino Facebook in maniera utile, cioè cercando di rendermi utile per un tema che ritengo necessario, non lo so, qualsiasi cosa che sia di etico e di morale. Si può fare da soli, in compagnia o con una grande organizzazione alle spalle. Non ci sono alibi che possano spingere a non occuparsi della partecipazione civica. La partecipazione civica, secondo me, la partecipazione civica dà ancora un senso altissimo alla vita. Grazie Massimo, grazie a tutti voi. Da Pianeta Animalista un grande bacio, un abbraccio da me e da Massimo Verti-Muller. Alla prossima puntata. Ciao da Laura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti